Comprata in prospettiva di un possibile utilizzo come muletto per i matrimoni, l'ho provata, tanto, e ora vi dico la mia. Sigla! Ciao Armanos, io sono Alexander De Pisa e se ve lo state chiedendo, no, questo video non è sponsorizzato da niente e da nessuno. Camera mia, grano mio. Vi dico subito che per me questa PSC è un grosso sì, infatti offre tutte le potenti opzioni della sorella maggiore, l'FX3, a meno della metà del prezzo. Se siete dei videomaker che cercano un upgrade e avete un budget ridotto, questa camera è la scelta perfetta. D'altro canto, se siete nella mia stessa situazione e usate una full frame video come camera principale come quella, allora l'FX30 è perfetta. Ok, se volete potete già smettere di guardare il video, spoiler finito, ora entrerò nel dettaglio ma senza i tecnicismi che potrete andare a cercarvi da soli. Poi non dite che non vi voglio bene. Estetica è uguale all'FX3, stesso corpo, ha un design che mi fa letteralmente impazzire, presa in mano e robusta ed ha un grip che trasmette sicurezza. È al limite dell'erotico per me, si lo ammetto. Porta HDMI regolare, non semplice da trovare in una camera con questo budget. Micro USB e USB Type-C, tenete a mente la USB Type-C perché ci tornerò dopo, fidatevi. Attacco cuffie, jack per microfono, nello sportellino alto. A proposito, l'apertura di questi sportellini è bellissima. Vicino all'area degli sportellini bellissimi ci sono le ventole, come si adice a tutte le serie Cinema Line o Cinema Line. Tranquilli comunque, non le sentirete neanche. All'interno del menu poi ci sono comunque tutti i suoi settings per gestirvele. Slot SD, c'è spazio per SD di tipo standard e CF Express di tipo A. Attenzione che entrambi gli slot possono montare entrambe le memorie, cosa per niente scontata. Se siete dei Waiting Video Maker come me, fatevi un favore, attivate la scrittura simultanea su entrambe le SD. Così se una dovesse morire in modo improvviso, atroce tra le fiamme dell'inferno, ci sarà l'altra a salvarvi il culo. Manca il mirino, è certo perché ok che sa scattare foto, però questa fondamentalmente nasce come videocamera. Fanculo al mirino. I tasti già nominativi, bellissimi e con la possibilità di estendere le personalizzazioni su ogni tasto. Il tasto REC retroilluminato, la luce poi qua per segnalare al malcapitato con un bel segnale rosso luminoso che lo state riprendendo. Ottimo e per niente invadente. Spegnetelo subito. Pulsantino per lo zoom in zoom out digitale, chiaro. Molto carino e preciso dove potrete impostarne sensibilità e velocità sia in fase di REC che non. Il menu è quasi del tutto identico a quello delle nuove Alfa. Ho trovato giusto questo quick menu dove ci sono le aperture, ci sono i picture profile, il bilanciamento del bianco, c'è l'ISO, c'è il tipo di registrazione, eccetera eccetera eccetera, il livello anche del microfono. Insomma le cose che si cambiano più spesso. Poi hanno aggiunto questo focus breathing, una stabilizzazione aggiuntiva che compensa il pulse focus, poi c'è il focus map che è una mappatura dei pixel colorata e vi aiuterà ad avere un fuoco perfetto in manuale. In pratica il monitor si riempirà di pixel colorati tipo funghetti allucinogeni e ciò che rimarrà fuori da questi colori sarà appunto ciò che la camera sta mettendo perfettamente a fuoco. Io personalmente me lo sono piazzato su un tasto rapido e la messa a fuoco così poi sarà veramente a prova il rincoglionito. Autofocus, eccezionale al pari degli altri modelli di fascia alta, stabilizzazione incredibile, uguale al nuovo IBIS della 7R5 con il grado di stabilizzazione attiva e un crop di 1.1. Se usate una lente dall'alto grado di compensazione come ad esempio il 24 mm della G Master che ho montato lì è da matti. Io lavoro poi al 95% a mano libera e oro. Batterie uguali a tutte le altre alfa della serie 3, alfa 3 in poi. Modalità di rack 10 bit. Ok l'ho detto, che figata. Praticamente avete tra le mani una PSC che registra esattamente come la 7S3. Mi vien da piangere. Picture profile, ci sono delle novità, una novità. Allora c'è il Flexible ISO e le nuove modalità chiamate Cine EI o IE, non mi ricordo. Poche parole per farla breve. Il Flexible ISO vi permette di usare come preview, in monitor, le vostre LUT a patto, e sottolineo a patto, che siano state create con Catalyst di Sony o DaVinci, su Final Cut non ne sono sicuro. Verità è che se avete costruito e salvato le vostre LUT su Premiere Pro non potrete importarle in camera perché non verranno riconosciute. Fate molta attenzione inoltre a come frugate i settings della camera perché la camera vi permette anche di salvare il file e la registrazione con la LUT dentro, quindi già montata, che è una merdata colossale. Potrete poi comunque scegliere di attivarlo o disattivarla in post produzione ma solo con i programmi nativi Sony. Chiaramente a pagamento o via traverse. Poiché poi alla fine sono semplicemente dei metadati così come sono le varie stabilizzazioni. Ad ogni uovo, sentite lo zio vostro, lasciate stare. Il Cine EI o IE, confondo sempre, invece è sempre una preview in monitor e bloccherà gli ISO in due scaglioni. ISO bassi o low ISO e ISO alti high ISO. 800 ISO per quelli bassi, 2500 per quelli alti. Dopodiché, a fianco alla metrica dell'esposizione, troverete la lettera HOL, questo perlomeno in lingua inglese e in italiano non ho ancora provato la camera, vergogna. La camera, in poche parole così facendo, vi dice che all'interno di questi due blocchi, con n-stop e n-esposizione, avrete la miglior gamma dinamica possibile da post produrre, ma comunque dovrete sempre e comunque post produrla. ergo non vi sta togliendo tempo alla post produzione, anzi. Che dire, questa impostazione io l'ho testata e sinceramente è per me, che faccio matrimoni prevalentemente, dove poi non ho il tempo nemmeno per andare in bagno, per non essere volgare, è impraticabile. Senza esposimetro, senza strumenti adeguati nelle situazioni di shoot and run, questa impostazione io la sconsiglio caldamente. Grazie Sony per avercela fatta, però insomma. Il sensore, a differenza della S3, è una PSC e quindi non un full frame, con un crop di 1,5. Ciò vuol dire che potrete tranquillamente montare il vostro corredo, lenti, full frame, ma dovrete comunque calcolare la lunghezza focale della lente per 1,5. Questo è il fattore di crop. Ad esempio, il mio 24 mm qui diventerà un 36, accettabile. Un 135, d'altro canto, diventerà più di un 200 o poco più. Meh. Ho preso questa camera, non come camera principale, ma come secondaria. Le affiderò quindi quasi sempre l'utilizzo del 24 mm 1.4 G Master, che è quello che sta registrando in questo momento. Lente che ho sempre considerato leggermente troppo larga. E continuando comunque poi ad usare in prevalenza il 50 mm, come questo, che è questo, sull'S3, o comunque altre focali più spinte, 135 e via dicendo. A proposito, anche la 7.4 fa lo stesso scherzo del crop mentre è registrata in 4K a 50 fotogrammi per secondo, sopevatelo. Valutate l'utilizzo o di lenti APS-C o direttamente full frame a patto che siano con un buon grado di ampiezza. Parentesi, potreste, potreste portare la vostra APS-C alle focali di una full frame con lo speed booster della Metabon. Vecchio aggeggio maledetto. Ma oltre a costare un rene, vi farà perdere tutti gli automatismi sulla lente. Sta a voi. La luminosità del sensore è inferiore ad una full frame perché è semplicemente fisica. Dimensione ridotta, quindi in minor superficie doveva abbattere la luce. Ecco perché. 1. Le associerò una lente con un'apertura a 1.4. E 2. Le preferirò sempre la S3 nelle situazioni notturne o comunque con scarsa luminosità. A proposito di comparazioni, anche la FX30 ha il cosiddetto doppio ISO, ma a differenza della S3, che ha il secondo scaglione a partire da 12.800 ISO, qui partirà da 2.500. Ok, avevo promesso qualcosa sulla USB Type-C. Questa ha la funzione di poter caricare la batteria della camera e mantenerla accesa, quindi dimenticatevi tranquillamente, grazie a questa porta, delle cosiddette dummy batteries. Avete risolto il problema. Per sempre. Ma, la cosa figa, e ci ho fatto un reel su questa cosa, collegando il cavo in dotazione al PC, bam, avrete una webcam da 2.400€. Eh sì. Prendi il cavo, collegalo alla USB del PC, plug and play, bam, driver auto installati ed è pronto all'uso. Dovrete solo dare l'ok alla voce che comparirà sulla camera per poter dare il via al segnale video. Prendete la vostra chiavetta, il gatto, quello che è per dare il segnale HDMI al PC della camera e la mettete in vendita. Allora, perché ho comprato questa camera qua, se già possiedo una S3? Perché ho dato via la mia vecchia S2. E perché mai ho dato via una full frame per una PSC? Semplice. Allora, la S2 non la usavo proprio più. Era troppo lo stacco tra 8 e 10 bit. Era troppo lo stacco di stabilizzazione. Il monitor era poco performante, rispetto comunque ai nuovi. Vecchia generazione di batterie. Insomma, la S2 aveva qualche anno e si sentivano veramente tutti. In conclusione, per il budget e per quello che offre, questa camera è da prendere senza porsi troppe domande, a patto che il vostro interesse sia prettamente sul video. Se nel vostro arsenale c'è un 50% foto, 50% video, allora andate su una ibrida come la 7.4 ad esempio. Se avete budget e fate 80, 90% video e volete lasciarvi uno spiraglio di foto, andate sulla S3. Oppure, se fate 100% video e non vi potete permettere una FX3 o una S3, andate su questa e investite sulle lenti perché comunque cambiano tanto. Bene, Hermanos, spero di avervi tolto ogni dubbio. Se così non fosse, lasciate un commento. E se così non fosse, non cambia nulla. Risponderò al limite delle mie capacità comunque a tutti i commenti. Lasciate un like se vi ho aiutato, attivate la campanella se non volete perdervi nulla o se volete stalkerizzare, il che è più inquietante. Ricordo inoltre che potrete trovarmi su Instagram, profilo linkato. Buon divertimento. Buon divertimento. Buon divertimento. Buon divertimento. Grazie.